quello che non fu infortunato mi chiamò parenti produceva chile manzotti a cui piacevo molto come attore e mi chiamò parenti e fammo sti due famosti due che sono un po come dire il paradosso del tifo no perché erano già grandini d'età non erano tu pischelli era proprio la voglia di come dire di esagerare di fare qualche cosa di incredibilmente incredibile che faceva ride perché proprio l'incredibilità di questi due personaggi era quello che era quello che faceva più ridere di tutti il lato comico era quello sono due tremendi e mi divertì come un pazzo ci mettemmo anche le battute nostre cose e io ancora oggi vengono da me delle persone con dei bambini per mano e vi dico di un po a mattioli qua battuti dei bambini di otto nove dieci anni sanno a memoria una sfremuta del sangue a scelle raccolta da detta ti devi da fare sentire e questo che vuol dire vuol dire comunque aver fatto un qualche cosa non grande ma un bel po no per tutte per tante generazioni insomma meno di dieci anni quante generazioni ci sono tra te e lui in mezzo tante e questi lo stanno a memoria tifosi non ne parliamo tifosi fu sempre una grande idea di di neri lo riportò dieci anni dopo prodotto da de laurentis dal filmauro ebbe un successo clamoroso anche quello 98 dieci anni dopo esatti me lo trovai lì non lo conoscevo avevo visto in compagni di scuola e faceva ridere a parte di farti fare le bucce non apre bocca secondo me ma come apriva bocca faceva te faceva crepata ridere insomma questa voce strana un ricordo strepitoso perché forse è stato il compagno di viaggio più onesto più più leale quello che meno di tanti altri ha mostrato la quel senso di competizione che purtroppo spesso c'è lo stesso coenzo enzo pure uno che quando tu stai con un collega e lavori e metti una battuta più lui mette la sua e a tutte e due questo va bene è importante no non sempre così però non sono sempre tutte rose e fiori con benna bucce era così mi dispiace solo quando morì andai a campo dei fiori sono riconosciutissimo lui la chiesa a campo dei fiori con corso vittorio lì che ero io e quell'attore napoletano che era in compagno di scuola luigi pedrucci persona per bene c'era soltanto lui io e lui e questa cosa mi mi abili un po soprattutto nella sua nella sua città ma soprattutto nel suo quartiere era conosciuto da tutti perché a verdone lo prese lì solo vi dicevo un deposito di libri sotto lo studio di verdone e campo dei fiori via giulia lì lo conoscevano tutti 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 mi fece un po impressione non vedere nessuno del nostro ambiente a parte pedrucci nessuno mi dispiacque molto io andai di corsa per me diventi diventa un impegno primario la cugina mi abbracciò mi disse lei è l'unico che vedo che ha un ricordo di mio cugino insomma mi fa per non c'è nessun altro io purtroppo non c'è nessun pazienza era un compagno bravo faceva ridere che niente da fare insomma ma era leale era onesto era una persona per bene quello un bel sodalizio ma insomma siamo un po lasciati ultimamente ma abbiamo fatto un sacco di roba insieme non solo in cinema ma anche in fiction beh eccolo lì si vedeva che comunque c'era una un affiatamento una a me piaceva lavorare con lui anche perché siamo veramente diversi perché che faceva ridere questo questo modo di essere romano romano proprio romano e milanese molto milanese lo sento abbastanza spesso lavorare sei cinema tu lo sei meglio di me con le piattaforme con la televisione al cinema no non è che vada più come una volta però insomma abbiamo abbiamo lavorato molto ma se capita perché no ancora e che lavoriamo tutti e due forse un po di meno ecco rispetto prima non mi ha mai cercato e glielo ho anche detto Carlo mi pare strano che tu in 40 anni di cinema se non ti sia mai servito una volta per un giorno no perché sai la verità è che i film corali ha fatto anche i film non mi cerca abbiamo un buon rapporto mi manca un po una cosa con verdone onestamente mi manca ma io non posso forzare la mano evidentemente lui non ha il mio stesso desiderio ecco di stare insieme e pazienza non ci sia così la faccia di